Allora, prima di procedere a creare adesso una nuova pratica di successione, a vedere appunto la compilazione delle varie sezioni, bisogna dire una cosa molto importante. Eredito infatti, oltre ad avere appunto integrato adesso il controllo ufficiale dell'agenzia delle entrate, quindi per la corretta compilazione, controllo e verifica della pratica di successione, è stato integrato anche di una funzionalità in più, cioè quella del controllo non formale che dà la possibilità appunto di aiutare nelle varie sezioni della pratica di guidare quali siano i campi necessari per garantire una corretta compilazione. Vediamo innanzitutto come attivare questa funzionalità. Andiamo qui in basso a sinistro, troviamo è assistente non attivo. Clicchiamo appunto sull'iconcina dell'assistente e andiamo quindi a cliccare semplicemente attiva. In questo momento in poi, in ogni sezione c'è appunto l'assistente che ci guiderà la corretta compilazione di ogni singolo campo. Infatti se adesso andiamo appunto a creare una nuova pratica, chiederà ovviamente di fare il primo salvataggio del file della successione, clicchiamo su sì, si apre quindi la sezione del frontespizio, la parte principale, la prima sezione appunto che andremo a compilare, che è quella appunto in cui in basso vedremo appunto le informazioni, i dati generali, definisce il tipo di successione, legittima, testamentare o mista. Andiamo a cliccare ad esempio qui legge e in automatico sul campo successivo, dove è presente anche un asterisco rosso, evidenzierà inserirci il tipo di dichiarazione. Andiamo a cliccare il tipo di dichiarazione, prima dichiarazione. Adesso, in questo momento in poi, questa sezione del frontespizio è già stata compilata correttamente, quindi sezione compilata correttamente. Potremo procedere quindi a eseguire l'inserimento dei dati del decuius.